C'è un altro episodio Federico che lega Luis Vangale e José Mourinho, vero? Per la verità Guardiola e Mourinho, durante il periodo, cioè c'è una partita a San Sebastiano dove sono in campo con differenti funzioni insieme, dove José ha la non brillante idea di rispondere a un paio di provazioni dei baschi e la pessima idea di andare al confronto. Sono sette, vogliono entrare in campo e terminarlo. Arriva Pep Guardiola come Leone Magno e dice ai baschi, signori, no, guardatemi, se credete che io sia una persona di un certo tipo, un giocatore da rispettare, per cortesia lasciate perdere. Ogni volta che fingono di litigare, Guardiola manda un piccolo messaggino per ricordare a José che io sono quelli di San Sebastiano perché i baschi a casa loro soprattutto lascia di stare. Non c'era in quell'occasione il terzo vertice del triangolo, cioè Luis Vangale, c'è invece Paolo Sogni.